Cominciamo dalla riete. Dividersi tra casa, amore e lavoro non è mai semplice, specialmente se quest'ultimo vi offre nuove possibilità. Vi sentite stanchi e con poco entusiasmo? Non preoccupatevi, lo ritroverete presto. Toro, l'intesa con il partner si mantiene di eccellente qualità grazie a un dialogo fitto e a interessi comuni che potrete approfondire insieme. Sfruttate al meglio intuito e fantasia sul lavoro. Ottimo giorno per gli artisti. Gemelli, pur essendo convinti che il senso dell'umorismo vi metta al riparo da tutto, potrebbe sfuggirvi un'osservazione per niente spiritosa che potrebbe ferire qualcuno e provocare tensioni in famiglia. Cancro, avete tutto ciò che vi serve per non accorgervi delle difficoltà e dedicarvi alle persone a voi care. Dire tutto chiaramente va bene, se riuscite però a non essere troppo critici ed esigenti. Non mancheranno novità sul lavoro. Leone, le stelle promettono bene per quanto riguarda il denaro. È un ottimo momento per concludere affari, realizzare guadagni, riscuotere crediti, chiedere un piccolo aumento. Vergine, con le stelle dalla vostra parte procedete secondo il vostro istinto e tutto andrà bene. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee costruttive per progetti a lunga scadenza. Anche l'amore promette bene. Bilancia, giornata caotica. I progetti professionali che avete in mente sono interessanti ma vanno coordinati meglio, pianificati con calma e precisione, se volete realizzarli in fretta e bene. L'amore oggi invece si colora derutismo. Scorpione, le circostanze portano sempre più verso il riconoscimento delle vostre qualità professionali, anche se l'impegno è sempre notevole. Sagittario, le stelle invitano la pazienza e la comprensione, soprattutto con coloro che non hanno i vostri tempi e hanno bisogno di riflettere prima di condividere le vostre idee e le vostre scelte. Capricorno, in questa giornata potrete davvero permettervi di osare un po', specialmente nella sfera lavorativa. Le stelle vi sono più favorevoli e, come suggerisce un noto proverbio, non è il caso di rimandare a domani quello che si può fare oggi. Acquario, con il successo arrivano vantaggi economici che vi permettono di condurre una vita più agiata. Un consiglio, non dimenticatevi degli impegni presi con un componente della vostra famiglia. Fesci, bisognerà prendervi con le molle per non far scattare la vostra proverbiale e per malosità. Prendete le cose con calma, anche a rischio di passare per lumache. Non male il settore professionale. Bene l'amore!